Questa mostra su Giacomo Livi è stata pensata in occasione del settantesimo anniversario della sua morte. Ci siamo chiesti come potevamo ricordare Giacomo Livi e l'idea era quella di lavorare con gli studenti con un percorso didattico che è stato svolto in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza per approfondire la figura di Giacomo Livi attraverso quello che di lui ci rimane, ovvero le sue lettere e le sue fotografie, le sue foto di famiglia. Quindi l'operazione è stata quella di rileggere la sua biografia nel tentativo di cercare di capire le motivazioni che lo hanno portato ad una scelta così radicale. Il compito è stato facilitato dal fatto che Giacomo Livi quando è stato fucilato aveva 19 anni, esattamente l'età che hanno i nostri studenti di quinta. Quindi è stato molto facile e immediato il passaggio tra la biografia di Giacomo che appunto si è trovato a fare questa scelta alla fine della maturità al primo anno di università, infatti lui aveva anticipato per meriti la maturità ed era già iscritto all'università e la vicenda che stanno vivendo i nostri studenti.